Cos'è l'amicizia? Ah, l'amicizia è riuscire a stare una persona anche in silenzio. Cioè, una persona con la quale è un po' come la moglie, diciamo. Dove c'è una complicità, un'affinità di idee, una capacità di comunicazione e di confidenza. Cioè, è la persona a cui puoi confidare delle cose intime. Soprattutto è una persona che tu aiuti nei momenti di difficoltà. Ed è una persona che in qualche modo senti far parte di te.